L'uva fragola è originaria del Nord America, dove è ampiamente diffusa dalla costa atlantica fino alle grandi pianure e rappresenta una delle più antiche tra le vite americane introdotte in Europa. Si tratta di una pianta rampicante con foglie grandi e pelose. Il frutto prodotto ha la forma di un acino del caratteristico sapore di fragola. Dalla sua vinificazione si ottengono vini di bassa gradazione alcolica. Le varietà coltivate in Italia provengono da incroci tra vitis labrusca e vitis vinifera. L'uva fragola, detta anche uva americana o Isabella, rappresenta la più antica delle vite americane introdotte in Italia, prima ancora che sorgesse il problema della filossera, un insetto micidiale che rappresentò per molti anni un male incurabile che, superando vallate e catene di montagne, colpì tutti i vigneti presenti in Europa. L'uva fragola ha molteplici impieghi. Gli acini possono essere assunti come alimento oppure per produrre il fragolino. Le foglie vengono usate dalla medicina popolare come antinfiammatoria e per la protezione dei capillari sanguigni. L'aceto di uva fragola, opportunamente diluito, era ampiamente usato dagli indiani pelle rossa per lavare le ferite o per fare impacchi sulle contusioni. Molteplici benefici per la salute umana e altamente protettivo per l'apparato muscolo-scheletrico, donando vigore ai muscoli e allieviando i dolori causati dai reumatismi. Ottimo disintossicante, decongestionante e drenante, vanta proprietà lassative e contribuisce a contrastare l'anemia. Bere succo di uva fragola, lontano dai pasti, riattiva il metabolismo basale, aiuta a combattere la sindrome del colon inevitabile e potenzia la flora batterica.